Continuano i controlli straordinari nella città di Gallipoli disposti dal questore di Lecce per contrastare l'illegalità anche grazie ai rinforzi delle pattuglie del reparto prevenzione crimine di Lecce e delle unità provenienti da altre questure e uffici dipartimentali. In questi giorni nel corso dei pattugliamenti, soprattutto nella zona di Baiaverde, gli agenti hanno fermato per un ordinario controllo un giovane turista che è stato sorpreso con circa 8 grammi di hashish. Lui è stato denunciato la droga sequestrata. Sempre a Baiaverde i poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, sono stati fermati all'alba da due giovanissime vittime in vacanza che poco prima erano state derubate dei propri cellulari da due individui senza fissa dimora che dopo il furto si erano dileguati all'interno della pineta adiecente alla litoranea. I poliziotti, nonostante le difficoltà dovute alla presenza di folta vegetazione, sono riusciti ad entrare nella pineta dove hanno rinvenuto un piccolo accampamento di tre cittadini, di cui solo uno in regola sul territorio nazionale. Pertanto, gli altri due sono stati portati in commissariato per i necessari controlli al termine dei quali sono stati espulsi dal territorio. Durante altri pattugliamenti, gli agenti della volante nei pressi del terminal degli autobus hanno controllato due giovani campani che alla vista della volante hanno cercato di eludere il controllo mostrando evidenti segnali di nervosismo. Da uno zaino è emerso un martelletto di emergenza frangivetro con due puntali bilaterali in metallo di cui i fermati non hanno saputo giustificarne il possesso. Gli oggetti sequestrati, indicati allo scasso, probabilmente sarebbero stati usati per compiere furti di autovetture. I due, appena ventenni, sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'attività di controllo si è svolta anche in mare attraverso l'impiego delle moto d'acqua della Polizia di Stato. In particolare, sono stati effettuati due soccorsi, uno in favore di un bambino che durante la cuccagna ha accusato un malore, l'altro in favore di un giovane trentenne in difficoltà per via del vento di Scirocco mentre faceva SAP. Infine, insieme alla Polizia Locale, è stato effettuato un controllo amministrativo presso un automarket posizionato in zona Baiaverde, i cui tavoli, panche e gazebo sono risultati abusivi per circa 40 metri quadri. Il titolare è stato sanzionato e verrà denunciato all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico.